Ciao ragazzi, il 20 luglio vi aspetto con la Nazionale Cantanti per la partita del cuore allo stadio Romeo Neri di Rimini, dalle 20.30 in diretta su Italia 1 mi raccomando è fondamentale perché ci aiuterete tutti a sostenere la Romagna colpita da questa alluvione che tutti conosciamo quindi mi raccomando e possiamo in realtà già donare al 45597 per la campagna Media Friends questo è fondamentale, noi giocheremo con il Golden Team per la Romagna quindi che dirvi, vi aspetto, venite numerosi, non vediamo l'ora di giocare per voi